Chiusa all'interno del mio pugno c'è la nuova Coolpix S01 Immaginate quanto è piccola questa fotocamera Una fotocamera davvero compatta, una fotocamera in miniatura Le dimensioni sono quelle di una carta di credito Lo potete vedere, è un vero capolavoro di miniaturizzazione e di ingegnerizzazione da parte di Nikon Questa Coolpix, la S01, comunque un sensore di 10 megapixel E uno zoom ottico 3x Uno zoom quindi che ci aiuta in moltissime occasioni E ci permette di ricorrere ad esempio all'ingrandimento digitale che sgrana l'immagine C'è il flash, c'è un ampio display sul retro Ampio per quanto sia possibile ovviamente per le dimensioni di questa macchina È un 2.5 pollici Uno schermo touchscreen che ci permette di impostare tutte le modalità di scatto E di gestire la macchina come meglio vogliamo Una piccolissima macchina attascabile che sicuramente fa foto migliori di quelle di uno smartphone E che sta tranquillamente non in tasca ma anche per esempio appesa al collo